L'isola di Piper Pan è pronta per accogliervi! Conosciamola! Matite, colori, spazi soffici... Ogni angolo del nido è fatto per stupire i nostri piccoli e per regalargli ogni giorno un risveglio completo dei sensi. Uno, due, tre... Ecco le nostre sezioni. Aquiloni, trottole, girandole. Tutte le classi sono pensate per sviluppare gli interessi, le abilità e le attitudini dei piccoli. Attività, letture per stimolare le parole e l'apprendimento del linguaggio. Si gioca in cucina per mettersi nei panni dei grandi. Cosa indosso? Cosa costruisco? Cosa leggo? La scoperta dei movimenti, i riti e i momenti della giornata. E poi la ninna nanna. Si spengono le luci e iniziano i sogni. Il bagnetto, l'igiene personale. Ogni momento è buono per conoscere il proprio corpo. Un vero e proprio atelier per far crescere l'artista che è in ognuno di noi. Pennelli, colori, la creatività e la conoscenza sono alla portata dei più piccoli. E poi tanta natura. Il giardino completa ogni giorno le attività delle sezioni. I bambini fanno esperienza della natura e con la natura giocano. E adesso, dopo una giornata ricca di esperienze, si torna a casa. Al nido di Minervio, i bambini e le bambine scoprono stare insieme ai compagni. Scoprono come sono fatti e soprattutto scoprono come è fatto il mondo intorno a loro. Un mondo che deve essere appunto conosciuto, con calma e grazie a tutti gli stimoli che arrivano quotidianamente durante le attività e le routine che si svolgono all'interno del nido. Il nido è un posto bellissimo, caldo, colorato, pensato per i bambini e le bambine, per rispondere alle loro esigenze, per fare in modo che riescano a sviluppare i tre aspetti che sono fondamentali per la loro crescita. La parte sociale, la parte degli apprendimenti e soprattutto la parte affettiva, che è quella che porta ai primi veri sviluppi. Le speriamo!